E la pace è il filo conduttore della settimana dei diritti dei ragazzi in corso di svolgimento a Brindisi e promossa dalla cooperativa Amani in collaborazione col Consiglio Comunale dei Ragazzi una serie di iniziative e di appuntamenti che mettono al centro proprio il tema della pace un messaggio forte anche in relazione all'appuntamento che esiterrà il prossimo giugno proprio nel territorio brindisino con il G7 che affronterà tra i vari temi proprio quello della pace in una fase di emergenza proprio per i più piccoli e il primo appuntamento si è svolto a Brindisi presso la biblioteca Media Porto gestita dalla società Santa Teresa partecipata della provincia di Brindisi che ha messo proprio al centro il tema della solidarietà e dell'accoglienza A livello di pace si va subito a pensare alle guerre che ci sono nel mondo però come hai detto tu la pace in primis deve essere quella che noi nel nostro piccolo, nel nostro quotidiano ogni giorno attuiamo insieme alle persone che ci stanno a fianco Mi è stato chiesto di colorare le strisce pedonali in prossimità di alcuni plessi scolastici in maniera colorata come un arcobaleno piuttosto che tenerle solo bianche sono rimasta veramente impressionata dalla forza del messaggio di un arcobaleno come striscia pedonale all'ingresso di un istituto scolastico Sono argomenti che hanno scelto loro, partono proprio dalla pace ma probabilmente declineranno tutte le attività sui temi della pace perché questa è una settimana itinerante si svolge in diversi luoghi della nostra città e affronta diverse tematiche ma credo che i ragazzi la vogliono elaborare tutta alla luce di ciò che sta succedendo nel mondo проходiamo al mondo Grazie a tutti.